Il mio figlio è la Sagrada di Ternia, stai a questa maniera, ma si trova lo stesso. Questa sera ci stava un gruppo fenomenale, che vava direttamente al Brasile, ho già presentato i tuoi anni fa, una cosa spettacolare. Sette fratelli per sette sorelle, sono Ippolico Calino, una grande, grande band, di Triscio Romagnolo, a passato, lui c'ha il viso tipo, fagli un passo, Raul, fagli un grande passo, artista, lei mondiale. Allora, hanno fatto l'ultimo disco, si chiama Disso e Pisso, il secondo disco, però a loro, forse lei ci perde, si chiama Sintu, lo dirà a qualcun altro. Ora si lasciona. Allora, il secondo, no, meglio, bravo, il secondo disco internazionale, il vostro amico, Neko, qui, si chiama Patrizio, Pippa e Pizzere Corigoni, è un disco carnale, bravo, è un disco bello. Comunque sia, siccome sono qui su quattro anni, mi hanno già detto, nell'ora da andare, voglio presentare Porto Flamingo, per il primo nuovo, una frase tratta direttamente dal pezzo loro più famoso, che la va, Porto Flamingo, se ti pieghi, te lo spingo. Allora, 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 allora. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti